Ecco una semplice tecnica che aiuta a riequilibrare le emozioni in pochi minuti e che potete fare ovunque. Prima di iniziare questa meditazione bevete un bicchiere d'acqua. L'elemento acqua è connesso con le emozioni e bere vi farà sentire più calmi ed equilibrati. Siedi con la schiena dritta in una posizione comoda, intreccia le braccia di fronte a te e porta le mani sotto le ascelle in questa maniera. I palmi delle mani rimangono aperti a contatto con il corpo. Applica se possibile una leggera pressione. Ora alza le spalle su verso le orecchie e allunga bene la colonna vertebrale verso l'alto, soprattutto la parte posteriore della testa per allineare il collo. Chiudi gli occhi, il respiro diventerà lento automaticamente. concentrati sul respiro, sul tocco delle mani e mantieni l'allineamento verso l'alto, soprattutto con la parte superiore del corpo. Musica Respira, espira, lentamente. Respira, espira, lentamente. Respira, espira, lentamente. Continua ad allineare il corpo verso l'alto, mantieni il collo allungato e le spalle verso le orecchie. Respira, espira, lentamente. In qualche secondo, espira e rilassa. Inizia con 3 minuti, aumenta gradualmente fino ad arrivare a 11 minuti. Inizia con 3 minuti, aumenta gradualmente fino ad allineare il corpo verso l'alto. Inizia con 3 minuti, aumenta gradualmente fino ad allineare il corpo verso l'alto. Inizia con 3 minuti, aumenta gradualmente fino ad allineare il corpo verso l'alto.